La signora Ilona mi ha insultato due volte, una parola molto brutta, e quindi da lì è partito tutto. Dopo la nomination, poi basta, non parlo più di questo. Un bacio alla mia fidanzata che l'amo con tutto il cuore, mi manca un sacco. Ok, mostratemi un attimo le foto però. Mostratemi le foto. Ma cosa ti ha detto però? Qual è la parola che ha usato, che ti ha offeso? No, 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 è brutta. E' irripetibile? Cerca il video che è registrato tutto. No, non è irripetibile ma è un insulto. E io da una signora non me lo aspetto anche perché sono loro che devono dare il senso. Ma perché non lo vuoi dire, Mia? Dilla pure. Perché no, no, non mi va di dire una parolaccia, non mi va. Ah, è una parolaccia? Certo, un insulto e una parolaccia, non mi va di dire una cosa che non mi va. Con che inizia? Iniziale? Con la C, con la C, dico. Finisce con la E? Sì. C'è il GL in mezzo. Eh, 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 se vuoi, cosa facciamo? Però no, vuoi... È il gioco dell'impiccato! Sì, la ruota è la forza. È il gioco dell'impiccato. Questi occhi, io dico questi occhi, hanno fatto un sacco di casino ma dicono la verità. Ma l'ha detto solo a te o perché siete in coppia? Perché generalmente vanno in coppia. No, l'ha detto a me, l'ha detto a me anche se sono sempre in coppia. Certo, un suggeritore del cubitore del bileğlico. No, l'ha detto a me pensavo già a me, l'ha detto a me pensavo che mi sono sempre in quería. E ora non mi l'ha detto a me pensavo... No, l'ha detto a me pensavo che mi sono sempre in coppia.